Si dice che il freddo quando è intenso geli anche le parole e in un certo senso è vero che la stagione fredda ci porta a parlare di meno e a pensare di più. L'inverno è la stagione perfetta per riscoprire sensazioni diverse dagli altri periodi dell'anno. La natura va in letargo sotto la coperta di neve e ghiaccio. Si riposa in attesa di rifiorire con la primavera per svegliarsi con nuova energia che esploderà in tutti i suoi colori e i suoi profumi. L'inverno manda in letargo anche una parte di noi stessi ed è il momento giusto per i buoni propositi e fermarsi un momento a riflettere su quello che vogliamo del nostro futuro e cosa possiamo fare per rendere il mondo un posto migliore. Questa è la stagione dove troviamo il piacere di un riparo caldo sotto una coperta o davanti a un camino e con una tazza di cioccolata in mano iniziamo a fare programmi per la prossima estate. Se un anno durasse 24 ore, l'inverno sarebbe la notte. Una notte stellata, silenziosa, in cui le luci brillano come il ghiaccio e le ombre coprono la terra come un manto di neve. Noi possiamo starcene dietro una finestra a guardare tanta bellezza. Io voglio uscire e raccogliere tutto lo splendore che anche l'inverno mi sa regalare. Io voglio uscire e raccogliere tutto lo stesso. Non è il calore del corpo che cerco quando fa freddo. È il calore di guidare la moto che scalda la mia voglia di vivere. È il calore di quello che mi circonda, che mi rende felice. È il calore dell'inverno che scalda il mio tempo. È il calore dell'inverno che scalda il mio tempo. Grazie a tutti.